Musica Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco Quella di oggi è una giornata importante perché è stata pubblicata l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit il documento che in qualche modo è un punto d'arrivo del cammino che la Chiesa ha fatto in questi ultimi due anni insieme ai giovani in particolare con il sinodo a loro dedicato naturalmente anche un punto di partenza sempre della Chiesa con i giovani questa mattina il documento è stato presentato naturalmente dal cardinale Lorenzo Baldisseri segretario generale del sinodo dei Vescovi quelli che più di tutti hanno lavorato proprio questo cammino sinodale è stato presentato anche da Lafidil Tumasi che è una studentessa già laureata in ingegneria e che è impegnata nella pastorale giovanile di Vicenza e che ha fatto anche in prima persona dei tratti importanti di questo cammino in particolare lei ha partecipato al presinodo il documento è fresco di stampa noi proviamo a leggerne insieme qualche pagina con una clip curata da Virginia Ciaroni Cristo vive egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo tutto ciò che lui tocca diventa giovane diventa nuovo si riempie di vita perciò le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono lui vive e ti vuole vivo dobbiamo avere il coraggio di essere diversi di mostrare altri sogni che questo mondo non offre di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio della purezza, della fortezza del perdono della fideltà alla propria vocazione della preghiera della lotta per la giustizia e il bene comune dell'amore per i poveri dell'amicizia sociale chiedono una chiesa che ascolti di più che non stia continuamente a condannare il mondo non vogliono vedere una chiesa silenziosa e timida ma nemmeno sempre in guerra per due o tre temi che la ossessionano per essere credibile agli occhi dei giovani a volte ha bisogno di recuperare l'umiltà e semplicemente ascoltare riconoscere in ciò che altri dicono una luce che la può aiutare a scoprire meglio il Vangelo cari giovani sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso correte attratti da quel volto tanto amato che adoriamo nella Santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente la chiesa ha bisogno del vostro slancio delle vostre intuizioni della vostra fede e quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti abbiate la pazienza di aspettarci queste sono alcune delle parole chiave quelle che state vedendo inquadrate in questo momento che sono un po' lo sfondo di questo dialogo a una prima lettura mi sembra di poter cogliere due cose di questo documento intanto uno stile molto diretto semplice e poi soprattutto uno sguardo positivo un cogliere la bellezza dei giovani e dei giovani nella chiesa non un mettersi ad analizzare e a guardare i giovani in qualche modo dall'alto verso il basso evidenziando le difficoltà di generazioni ma invece sottolineando tutta la bellezza di questa stagione della vita e il contributo decisivo che queste persone possono dare al cammino di tutta la chiesa sì veramente buonasera a tutti sono contento di essere qui devo dire che c'è un filo conduttore proprio che va avanti nel documento io lo trovo nell'incipit all'inizio Cristo vive Cristo è un personaggio storico per molti giovani lo hanno detto nel presinodo e altrove che può dire e non dire ma naturalmente sappiamo che ha segnato la storia ma non è solo memoria noi diciamo come cristiani è un memoriale cioè è presenza è infatti Cristo il personaggio importante che è il centro di tutto questo messaggio di questa lettera poi vive la vita chi non ama la vita si dà si dà tutto si cura la vita ebbene qui noi vediamo che in queste due piccole parole che sono all'inizio Cristo è vita riassumono tutto il documento vediamo che Cristo viene presentato come l'eternamente giovane cioè è giovane Dio che ama e che Cristo che salva e lo spirito santo che illumina è Gesù il giovane giovane maturo addirittura a 33 anni dalla vita e muore in croce ma non finisce lì la vita noi troviamo dopo una notte oscura il dramma di tutti gli uomini che devono affrontare la vita con gli alti e bassi con i dolori le gioie poi alla fine c'è quel momento di buio di notte che è la morte di per sé ma c'è un mattino e che soltanto Gesù poteva darlo questo mattino splendido che è la risurrezione ecco perché noi noi se vediamo questo filo meraviglioso c'è un'uscita anche per chi è lontano dalla fede anche per chi è caduto nella droga nella prostituzione che so io è arrivato anche a commettere le azioni peggiori del mondo l'uccisione addirittura anche il suicidio ci sono purtroppo anche giovani che si suicidano c'è sempre un'uscita è un messaggio di speranza è un messaggio di grande speranza veramente questo è un testo bellissimo io dico che si legge in una serata ecco sono 299 titoletti cioè numeri e non si spaventino i giovani che vedono un libretto come questo ma come farò io a leggerlo tutto no per te com'è andata tu l'hai letto prima di tutti perché oggi abbiamo anche delle immagini l'hai presentato nella sala stampa della santa sede e poi soprattutto che cosa ti ha che reazioni hai avuto visto che immagino che in questi anni in cui sei stata protagonista del cammino della chiesa con i giovani tu avevi coltivato tante aspettative come sono andate queste aspettative sono rimaste deluse o sei rimasta positivamente sorpresa sono rimasta positivamente sorpresa e soddisfatta innanzitutto appunto come ha detto prima il linguaggio usato è un linguaggio semplice un linguaggio scorrevole appunto è facile da comprendere anche per noi giovani e questo soddisfa una delle aspettative che avevamo detto noi al presinodo perché uno dei problemi che avevamo notato tra la chiesa diciamo adulta e la chiesa giovane era il problema del linguaggio che la maggior parte dei documenti della chiesa comprendevano troppi arcaismi e termini difficili e abbiamo visto anzi ho visto in questo documento del papa che ha usato appunto un linguaggio semplice accessibile a noi giovani e soprattutto ha usato anche termini giovanili ho notato la presenza di termini come tutorial come influencer che sono proprio termini che usiamo tutti i giorni noi giovani e quindi è stata veramente una sorpresa piacevole e che mi ha fatto molto piacere appunto vedere stamattina il papa parla di mostrare altri sogni tu che sogno vorresti mostrare come chiesa e come giovane negli altri giovani sì un sogno appunto una delle aspettative che avevo già dal l'urione presinodale era di vedere una chiesa giovane più presente più attiva perché appunto noi giovani ormai non siamo più soddisfatti di risposte preconfezionate vogliamo più partecipazione non ci basta più essere presenti passivamente vorremmo essere responsabilizzati e già dal documento si vede proprio un passo in avanti ma lei ha ricevuto qualcosa dal dialogo con questi giovani in questi anni io sono ringiovanito ecco vorrei dire che stando con i giovani si rimane giovani questo vale per tutta la chiesa non solo per i cardinali non solo per i cardinali vale per tutti infatti io posso dire che da quando mi occupo di questo tema oltre ad altri temi di cui lei sa che io sono pure un pianista quindi è chiaro che la musica dà uno spirito giovanile stiamo organizzando un concerto del cardinale qui ma insomma manca ancora un po' per dire che ecco mi sono sentito bene con loro essere con loro vuol dire proprio la gioventù vuol dire vita vita cioè quello che conta non è l'età ma è lo spirito che uno ha vuol dire anche un'altra parola che il Papa ha spesso rilanciato nei suoi discorsi e lo fa in questo documento questa parola è inquietudine che noi non sempre cogliamo positivamente invece qui viene presentata come una parola importante è importante per Sant'Ignazio per la tradizione dei gesuiti è importante quindi per la chiesa ed è una caratteristica che i giovani hanno da offrire a noi adulti sentiamo un passaggio di un discorso di Papa Francesco in cui parla proprio di questa inquietudine quei giovani che hanno paura di tutto no io sono così ma questi giovani non andranno avanti mitezza forza e niente niente pusillanimità niente mediocrità il beato Pier Giorgio Frassati che era un giovane diceva che bisogna vivere non vivacchiare i mediocri vivacchiano vivere con la forza della vita bisogna chiedere al Padre Celeste per i giovani di oggi il dono della sana inquietudine a casa nelle vostre case e non in famiglia quando si vede un giovane che è seduto tutta la giornata così consapensano mamma e papà ma questo è malato ha qualcosa e lo portano dal medico o no la vita del giovane è andare avanti essere inquietti la sana inquietudine la capacità di non accontentarsi di una vita senza bellezza senza colore se i giovani non saranno affamati di vita autentica mi domando dove andrà l'umanità dove andrà l'umanità con giovani quieti non inquietti dove andrà che bellezza parla il papa qual è questa bellezza che deve essere più viva nella chiesa secondo te e questa bellezza che la chiesa deve saper annunciare al mondo innanzitutto la bellezza del vangelo e il fatto di metterlo effettivamente in pratica perché il vangelo lo mettiamo in pratica vivendo come ha detto il papa dobbiamo viverlo e quindi innanzitutto anche come ha detto il papa precedentemente a riguardo dell'inquietudine noi giovani non dobbiamo mai fermarci in pratica dobbiamo muoverci continuamente cercare continuamente e anche osare perché ha detto il papa Francesco durante la riunione persino d'Ale che un giovane che non osa invecchia e noi non vogliamo invecchiare così quindi dobbiamo proprio metterci sotto proprio e cercare appunto di andare avanti e non di rimanere stanti una delle osservazioni raccolte da questo documento proprio in termini di inquietudine mi pare che i giovani abbiano detto in questo cammino sinodale che la Chiesa non può stare sempre col dito puntato contro il mondo ma deve essere appunto inquieta saper leggere i segni dei tempi i segni di Dio nella storia c'è un'autocritica da fare su questo e quale? Bene il Santo Padre il Papa Francesco ha un pontificato veramente di grande proiezione e di movimento già la parola sinodale già dice di stare in cammino e dice apertamente nel documento che questa è una pietra miliare del cammino sinodale grande quello cioè dei giovani che si devono muovere per poter evangelizzare per poter portare le cose buone concrete nella Chiesa e fuori come missionari è molto interessante quando il Papa dice nel tema così triste vogliamo anche controbattuto degli abusi eccetera voi giovani voi giovani date il vostro apporto se avete se avete davanti a voi una persona che non si comporta bene diteglielo abbiate il coraggio di dirlo cioè interpella i giovani li fa li fa protagonisti quello che abbiamo noi di cui abbiamo parlato per due anni nei nostri incontri e abbiamo anche ricevuto è proprio questo che i giovani non devono essere oggetti ma soggetti devono essere protagonisti della loro storia e anche della storia del presente e in proiezione del futuro e di quelle che saranno le conseguenze concrete di questo documento è proprio quello di cui vogliamo parlare adesso però facciamo una piccolissima pausa ci vediamo tra un attimo più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere lavorare insieme di nuovo in diretta oggi con noi ci sono il cardinale Lorenzo Baldisseri e l'Afidil Tumasi stiamo parlando dell'esortazione apostolica Christus Vivit che proprio i nostri due ospiti hanno presentato oggi nella sala stampa della Santa Sede un documento che arriva al termine del cammino sinodale il sinodo dedicato ai giovani e che evidentemente è un punto di partenza un punto di partenza per nuovi impegni pastorali per il nuovo cammino della Chiesa tutta e allora sentiamo che cosa ha detto il Papa nell'ottobre scorso proprio al termine del cammino sinodale proprio guardando al futuro futuro che oggi è presente ma che ha ancora tante tantissime pagine da scrivere i frutti di questo lavoro stanno già fermentando come fa il succo dell'uva nei botti dopo la vendemmia il sinodo dei giovani è stato una buona vendemmia e promette del buon vino ma vorrei dire che il primo frutto di questa assemblea sinodale dovrebbe stare proprio nell'esempio di un metodo che si è cercato di seguire fin dalla fase preparatoria uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stessura di un documento che pure è prezioso e utile più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme giovani e anziani nell'ascolto e nel discernimento per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà voi come sinodo dei vescovi avete tirato un po' la carretta in questi due anni adesso tocca alla chiesa tutta lei che cosa spera che possa accadere? in primo luogo vorrei dire che alla conclusione della celebrazione e quindi con la presentazione di questo documento del santo padre si chiude per noi quello che è la seconda tappa del percorso sinodale la prima preparazione la seconda la celebrazione con la pubblicazione vi è poi un po' sinodo e il post sinodo secondo diciamo gli statuti che noi abbiamo come sinodo dei vescovi è affidato al di castero competente qui a Roma nella santa sede e affidato ai vescovi del mondo ecco che noi proprio per questo motivo che possiamo poi trattare altri argomenti come istituzioni infatti vi occuperete di amazzonia ma adesso questa è un'altra storia sì questo è il fatto per cui vorrei dire che ecco i frutti di questo lavoro si vedranno pian piano con il tempo perché non è un libretto questo un testo che si mette nel cassetto perché è chiuso un ciclo no è proprio l'inizio dobbiamo cioè prendere da questo testo la esortazione apostolica apostinodale del papa che è la sintesi ma lei che cosa vorrebbe che fosse preso in particolare in particolare da due indicazioni il papa quello della ricerca di cui si parlava prima della inquietudine quindi e poi della della crescita la ricerca è quella che i giovani vogliono nella loro vita vogliono un futuro quindi cercano e se non lo trovano arrivano anche a conclusioni difficili cioè dolorose ma noi ecco abbiamo bisogno di far crescere il giovane attraverso l'accompagnamento e il discernimento il discernimento alla vocazione in senso ampio della parola cominciando dalla vocazione della famiglia e poi tutte le altre vocazioni la vocazione del sacerdosio alla vita consacrata e così via ecco questo è tutto il lavoro che dovrà essere fatto nelle diocesi nelle barrocchie e la necessità che questo documento poi passi come noi all'inizio nella preparazione abbiamo mandato un documento diciamo di base per poter raccogliere i vari suggerimenti ora noi restituiamo in qualche modo un documento con delle indicazioni e c'è una cosa che volevo dire c'è una pastorale giovanile popolare che è interessante che è una novità che cos'è questa pastorale sembra nuovo ma poi alla fine vuol dire questo il papa dice non dobbiamo rimanere nel nostro circolo chiuso degli oratori delle parrocchie dobbiamo andare fuori ecco la chiesa è uscita per cui ci sono sempre leader nei gruppi c'è un ragazzo che è bravo eccetera non è necessario che sia iscritto all'azione cattolica che sia in un gruppo no ecco promuovere questo questo è popolare nel senso che nel popolo non solo popolo di Dio ma popolo in generale tutti per cui ci saranno credenti non credenti ecco il ragazzo deve diventare un leader e lì portare con sé e tirare avanti una diciamo un programma che poi pian piano arriva al cuore delle persone tu hai esperienza di pastorale giovanile nella tua diocesi d'origine che è Vicenza e che cosa vorresti cambiare a questo punto che cosa vorresti cambiasse nel modo di vivere dei giovani della chiesa nel modo di fare spazio della chiesa ai giovani sì a proposito di leadership per esempio sì vorrei che ci fossero ancora ci sono già dei giovani attivi nella mia diocesi ma vorrei che ce ne fossero di più e soprattutto come ha detto anche lei prima non solo giovani cattolici ma aperto a tutti i giovani perché in effetti il sinodo non era solo rivolto ai giovani cattolici ma a tutti i giovani del mondo e quindi cercare di creare ambienti più accoglienti in un certo modo verso tutti i giovani cercando appunto di responsabilizzare noi giovani e appunto creare dei leader ma per creare dei leader abbiamo bisogno di accompagnatori ed è stata anche una delle richieste che abbiamo avuto durante il presinodo e che è stato appunto visto ogni sinodo anche nell'esortazione apostolica che appunto abbiamo bisogno di accompagnatori che necessariamente devono essere adulti con conoscenza e con esperienza ad incanalare i nostri doni i doni che abbiamo noi giovani che sono la forza il carisma l'entusiasmo la voglia di fare però appunto abbiamo bisogno di persone che camminino con noi perché non possiamo essere lasciati da soli e abbiamo bisogno appunto di gente che cammini con noi che ci mostri la via diciamo e appunto a Vicenza che è la mia diocesi di residenza alla pastorale giovanile già dopo il sinodo abbiamo iniziato a prendere in mano il documento finale analizzandolo cercando i temi e le realtà più vicine a noi e cercando appunto di implementare i suggerimenti che sono stati dati nelle nostre attività quotidiane ma il cammino tuo personale dentro il cammino della chiesa nel sinodo dei giovani ha cambiato il tuo modo di vedere la chiesa sì sicuramente in che senso me la dai in 30 secondi perché voglio fare poi la stessa domanda rovesciata al cardinale sì perché vivevo diciamo vivevo la chiesa in un modo passivo perché praticamente facevo tutto quello che c'era da fare magari io non capendo benissimo ma sapevo che bisognava fare e lo facevo però dopo questo cammino sinodale lo faccio attivamente so quello che faccio e so a che punto voglio arrivare quindi decisamente un cambiamento inconsapevolezza in qualche modo e lei ha cambiato il modo di vedere i giovani dopo che li ha frequentati tanto in questi due anni beh devo dire che sono stato molto con i giovani anche se il mio ruolo era quello istituzionale istituzionale fin da ragazzo anche quando ero giovane sacerdote ma oggi veramente vedo una gioventù completamente diversa nuova e aperta a tutto anche ai rischi anche ai pericoli anche però quella che noi vogliamo vedere è di dare spazio e fiducia perché le è piaciuta questa gioventù in fondo a me è piaciuta moltissimo questa esperienza e continuo ancora a seguirli a seguire perché effettivamente stare con loro si sta bene e fa diventare giovani si può anche dare un contributo un contributo importante grazie grazie cardinale grazie grazie la fiducia è il momento di andare all'urdo per il rosario e ci andiamo pensando a Giovanni Paolo II che il 2 aprile di 14 anni fa ci lasciava ci rivediamo domani sempre alle 17 e pronto grazie 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 che il Spirito Santo faccia crescere con la sua sapiente fantasia i frutti del nostro lavoro per continuare a camminare insieme con i giovani del mondo intero grazie a tutti grazie a tutti